Sono ospirati eventi di passione e ispirazione in questa edizione, era quello che dicevamo, un bilancio direi positivo, molte aziende nuove anche rispetto a queste tematiche disponibili al confronto e al networking, quindi 4.000 presenze su questo tema ci confortano perché vuol dire che l'argomento si sta così ampliando e non è più un dibattito tra poco, ma riguarda sempre più soggetti diversi, grande partecipazione anche alle attività interattive, dalla mappa mentale tridimensionale alla promessa di impegno verde che tantissimi hanno lasciato, quindi lo spirito del salone che voleva essere quello anche di non avere dei visitatori ma dei protagonisti mi sembra di poter dire che è stato cintrato.